Ciao ragazzi, volevo ringraziare Arianna che stamattina mi ha fatto trovare questa splendida scatoletta, ovviamente personalizzata, dove ha usato la tecnica pirografia e con la punta in ferro rovente brucia il legno in base alla sua pressione. Guardate i dettagli, è fantastico, ha realizzato il girasole con la scritta ovviamente mani in pasta, come potete vedere è una scatoletta dove si apre e può essere usata come porta cialde, porta capsule, in cucina, ovviamente anche pure per mettere i gioielli, insomma tutti i modi possibili, come potete vedere qui la definizione è stata bravissima Arianna, infatti ve la taggo qui sotto e andate a visitare la sua pagina, è davvero originale. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.